buongiorno da obiettivo news oggi 24 dicembre san delfino di bordeaux e della vigilia di natale ossia l'intera giornata che precede il giorno di natale la festa che commemora la nascita di gesù ed è spesso occasione di un passo in famiglia a volte accompagnato da celebrazioni come la messa di mezzanotte il giorno di natale osservato in tutto il mondo e la sua vigilia è ampiamente osservata come un giorno festivo completo o parziale in previsione del giorno di natale entrambi i giorni sono considerati tra le celebrazioni culturalmente più significative della cristianità e della società occidentale molte altre tradizioni ed esperienze culturali diverse sono anche associate alla vigilia di natale in tutto il mondo tra cui il raduno di familiari e amici il canto natalizio l'illuminazione e il godimento delle luci natalizie degli alberi di altre decorazioni l'avvolgimento lo scambio apertura dei regali e preparazione generale per il giorno di natale si dice spesso che anche le leggendari figure portatrici di regali natalizi tra cui babbo natale nonno gelo christkind san nicola pertanto per il loro viaggio annuale per consegnare regali ai bambini di tutto il mondo alla vigilia di natale anche se fino all'introduzione dei protestanti del christkind nell'europa del xVI secolo si diceva che tale figure consegnassero invece regali alla vigilia di la festa di san nicola il 6 dicembre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti